Il giornalista della BBC Amol Ryan si è scusato dopo aver definito il duca di Edimburgo un buffone razzista e il principe di Galles scientificamente analfabeta in un feroce articolo del 2012 il giornalista della BBC Amol Ryan si è scusato per i commenti storici che ha fatto sui reali. Il giornalista che ha diretto un documentario della BBC che esamina la relazione tra il duca di Cambridge e il duca del Sussex e i media si è scusato per i commenti critici che ha fatto sulla famiglia reale un decennio fa. Nel 2012 in un articolo sul Queen's Diamond Jubilee per il quotidiano Independent, il 38enne ha descritto il duca di Edimburgo come un buffone razzista e il principe di Galles come scientificamente analfabeta. Amol che all'epoca curava il giornale prese di mira anche il principe William e il principe Harry. E dopo che l'articolo è riemerso, Amol che è l'editor dei media della BBC e un presentatore del programma Today di Radio 4 è andato su Twitter per scusarsi e confessare che si è pentito profondamente dell'articolo. Ha continuato dicendo che le parole erano rude e immature prima di aggiungere che è imbarazzato, ha scritto, in riferimento a domande molto ragionevoli su alcuni stupidi commenti di una vita precedente, voglio dire che me ne pento profondamente. Ho scritto cose che erano maleducate e immature e ora le guardo indietro con vero imbarazzo, e mi chiedo cosa stavo pensando, francamente. Vorrei chiedere scusa per qualsiasi offesa che hanno causato allora o adesso. Sono completamente impegnato nell'imparzialità e spero che i nostri recenti programmi possano essere giudicati in base ai loro meriti. La BBC ha rifiutato di commentare ulteriormente, viene dopo che The Princess and The Press della BBC 2, presentato da Ryan, è stato criticato dalle famiglie reali per aver dato credibilità a affermazioni esagerate e infondate, e ha spinto la trasmissione di uno speciale servizio di canti natalizi guidato dalla duchessa di Cambridge all'abbazia di Westminster per essere trasferito dalla BBC ITV.